Salve leggende e benvenuti in questo video speciale in cui vi parlerò di come tratterò una delle serie più attese del canale, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Sono Paltrinox e sono felice di presentarvi in anteprima tutti i contenuti che dedicherò a questo fantastico gioco e che troverete sul mio canale. Per iniziare non vedo l'ora di mostrarvi la guida completa di Tears of the Kingdom. Questa sarà una vera e propria enciclopedia che vi guiderà passo dopo passo alla scoperta di tutti i segreti di questo gioco. Non importa se siete principianti o esperti di Zelda, questa guida sarà perfetta per tutti. E per coloro che amano scoprire i segreti nascosti del gioco, non mancheranno i glitch e i trucchi che svelerò in esclusiva per voi. Inoltre avrete modo di conoscere le top classifiche di Tears of the Kingdom, dalle armi agli scudi, dagli archi alle combinazioni con i vari materiali e costruzioni di veicoli. E non è finita qui, ho pensato anche a voi, la mia community. Infatti avrete la possibilità di partecipare attivamente alla serie, inviandomi uno screen o un brevissimo video su cosa siete riusciti a costruire con Ultramano, accompagnato dal vostro nome YouTube. E potrete inviarmi il tutto alla mia email che apparirà su schermo e che troverete anche in descrizione. Queste immagini o video verranno pubblicati solamente nei video disponibili per tutti. Ma la ciliegina sulla torta è la blind run del gioco esclusiva dedicata soltanto agli abbonati del canale, al prezzo simbolico di 0,99 centesimi. Quindi se desiderate essere i primi a scoprire tutte le mie reazioni, pianti, scoperte, segreti e la storia della lore di Tears of the Kingdom, non perdete questa incredibile opportunità. Ma non finisce qui, perché per i veri appassionati ho pensato a un'ulteriore chicca, il diario segreto del viaggio di Paltrinox su Tears of the Kingdom. Qui potrete scoprire le mie impressioni a caldo sulle sessioni di gioco appena registrate in blind, esclusivo solo per gli abbonati del canale. In futuro organizzerò anche maratone e dirette live dedicate a Zelda Tears of the Kingdom, le Zeldatone, dove potrete unirvi a me in questa epica avventura. Inoltre, per i veri esperti del gioco, organizzerò anche una perfect run in master mode, non appena sarà disponibile questa modalità di gioco. E non dimenticate di prepararvi per le future speedrun per restare sempre ai vertici della classifica mondiale. Ecco, questi sono solo alcuni degli incredibili contenuti che vi aspettano sulla mia serie dedicata a Tears of the Kingdom. Spero di avervi incuriosito abbastanza da farvi restare sintonizzati sul mio canale per tutte le avventure che verranno. Non dimenticate di lasciare un like, commentare e condividere il video con i vostri amici. Ci vediamo nel prossimo episodio. E come sempre, che la dialia sia con voi e che la Triforza vi accompagna. Adios. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.